Ciao leone, bentornato. Oggi è giovedì, 4 ottobre 2024, e ho delle previsioni speciali solo per te. Sei pronto a scoprire cosa ti riservano le stelle? Oroscopo leone. Più mici che fiere. Da quando Marte transita nella vostra dodicesima casa, dove ha abbassato le aree e appare quasi spendo, anche voi avete cambiato registro, meno arruggenti, meno grintosi, più simili a micioni mansuetiche a fiere fameliche. A rendervi così bonaccioni un doppio sestile, gioven gemelli e la luna bilancina che fanno convergere l'ororaggio sorridente e pacifista proprio sul vostro segno. Tutti vi apprezzano e vi dimostrano affetto, che ricambiate con l'entusiasmo del vostro grande cuore. Un anniversario o un successo meritano un festeggiamento in grande, su questo non siete cambiati, per chi vi è caro volete sempre il meglio, anche a costo di finire in bolletta la serata sarà memorabile. Alcune coppie potrebbero vacillare o si potranno addensare nubi tra i partner. Alcune scelte che si faranno si riveleranno sbagliate. Si cerca di imporre il proprio punto di vista soprattutto in amore, questo provocherà della crisi. Sarai geloso e ambizioso. Nel lavoro vorrai stare al centro dell'attenzione così come tra gli amici. Fate un bel programma per la giornata e curate ogni dettaglio e ogni particolare. Oggi potrebbe essere il giorno importante in cui mettere a segno dei colpacci sia in amore che sul lavoro. Le relazioni a due ti daranno soddisfazioni. Eventi piacevoli in casa. Abbi più fiducia in te stesso, assumi dei rischi. Oggi evitate di fare acquisti online e se proprio dovete studiatevi ogni particolare delle vendite per non avere sorprese successivamente, guadagni in più ed extra dalla professione. Un certo benessere è in arrivo. Momenti gioiosi in casa. Favorito tutto ciò che farai dietro le quinte. Per ottenere ciò che desideri dovrai essere deciso e determinato. Vantaggi dallo scrivere. Bene cambiamenti, viaggi, riunioni mondane. Oggi potrai guadagnare più denaro del solito se ti darai da fare. Oltre al danno la beffa. Cercate di credere di più in voi stesse e di rifiutare trattamenti poco rispettosi da parte del partner. Ne va della vostra dignità. Oggi potreste smarrire qualcosa di importante, attenti a chiavi e oggetti preziosi. Attenti al Bancomat. Orizzonte astrologico in cui congiove nel segno a voi congeniale dei gemelli, la vostra personalità dinamica a modo di esprimersi nel modo più felice e in armonia alla sua natura genuina. Giovedì giorno di giove che vi fa buon gioco regalandovi un sestile realizzativo e lo stesso fa la luna bilancina in sestile, simultaneamente amica sua e vostra. Un ambiente amichevole vi aiuta a portare in luce la vostra parte migliore. Colleghi, amici, parenti, tutti vi stimano e vi vogliono bene. Tutti, tranne uno, il rosso Marte che da uno dei punti più segreti del vostro oroscopo, la dodicesima casa, vi colpisce a tradimento, riportando a galla vecchie ruggini e pensieri autodistruttivi. Ecco come rovinarsi una bella giornata con un ricordo doloroso. Quando ci si vuole far male a tutti i costi. Graffiarsi l'anima è un attimo. Per tirarvi su pensate al progetto che state ancora rifinendo, alla festa dove sarete ospiti domani sera, alle persone care di cui vi potete fidare a occhi chiusi oggi, domani e sempre. Dopotutto nonostante la giornata no la vita è bella e continuerà ad esserlo anche in futuro. Amore ed eros. Ne eros, ne exploit sentimentali, oggi vi tenete tutto dentro al meno. Ermetici per quanto riguarda la coppia dialettici, empatici, veri animali da palcoscenico quando si tratta di amicizie o di famiglia. In altre parole il rapporto io-voi va alla grande, ciò che vi mette in discussione, e perciò lo evitate abilmente, è la relazione io-tu dove rischiate di sentirvi stranamente perdenti. Siete anche nati nella terza decade? Un clima astrologico prudente e conservatore arriva a condizionare anche voi quest'oggi che di solito siete un segno poco sentimentale e portato a vivere le emozioni in maniera bruciante. Il cielo vi richiede, sotto un transito dinamico di urano, svolte capitali e rivoluzionamento di situazioni preesistenti. Non è escluso che eventi che coinvolgono convivenze o addirittura matrimoni, notizie di nascita di figli e, per contro, ribellioni a rapporti di coppia venuti a noia, vi si possano presentare. Per i single assistiamo alla prevalenza dell'affettività che domina sulle fiamme della passione. Per i nati nella prima decade l'aspetto contrario della luna dal segno nemico amatissimo dello scorpione, invece impone un momento di riflessione che produrrà una fase di risoluzione alla fine benefica e positiva. Lavoro e denaro? Fiacchi, si vede lontano un miglio che oggi siete giù di corda e meno male che avete uno staff complice e collaborativo. Anche stavolta i colleghi vi daranno una mano, gentile anche il socio che sembra aver dimenticato, o quanto meno esser passato sopra, a un recente diverbio, acqua passata non macina più. Serata goliardica tra amici, piano però con le battute per l'occasione rinunciate alla palestra, realizzando che non vi dispiace affatto. Non vi pentite di imporre la vostra volontà in maniera brusca a un collega in ufficio, ma vi accorgete poi che questa mossa è stata benefica e liberatoria, portando a risultati di notevole velocità di esecuzione e conseguente risparmio di tempo. Benessere. Giù di tono, dove sarà andata a finire la vostra bella grinta? Il cambio di stagione mette alla prova non solo il fisico ma anche la mente e l'anima, per non parlare del mondo che pare impazzito con episodi di follia ormai quotidiani. A regalarvi stabilità emotiva un ambiente sereno e affetti consolidati. Toccherà agli altri stavolta prendersi cura del boss, ovvero voi. Denaro. Siete finalmente nella condizione di poter tentare la sorte al gioco. Giove vi rende più fortunati del solito. In maggior grado tuttavia se siete nati nella seconda e terza decade. Per lei, da quando siete più gentili e malleabili, anche gli altri lo sono diventati nei vostri confronti, la pace è una campana che richiama altra pace. E allora diteglielo ai signori della guerra. Per lui, guerra del macrocosmo, guerra del microcosmo, di violenza e soprusi non se ne può più, incuneato tra la non-violenza del 2 ottobre e il pacifismo francescano del 4, questa giornata raccoglie la vostra protesta civile e ben organizzata. Non solo voi, ma centomila sulla stessa linea di pensiero. Colore delle emozioni, ciclamino. Barometro dell'umore, sereno. Pagellina del giorno. Sentimenti, 10, attività, 7, finanze, 6, benessere, 7. Grazie per aver guardato il video. Buona giornata.